Siamo qui in compagnia della bellissima Lumix S5-2X che ci è stata mandata in prova direttamente dal team di Panasonic. Oggi vi faccio vedere un po' di immagini che ho scattato in questi giorni con questa fotocamera. Tenetevi forte e guardate il video fino alla fine perché la qualità di immagine di questa fotocamera ha sorpreso me e sorprenderà anche voi. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da diversi anni e quindi ormai ho una mia routine, un mio flusso di lavoro dal quale è anche abbastanza difficile che io esca perché ormai ho le mie abitudini ed ecco che provare della strumentazione che non conosco diventa divertente e emozionante perché una macchina come questa soprattutto una macchina di fascia alta mi permette di giocare, mi permette di fare cose magari che normalmente non faccio, mi permette di scoprire alcuni aspetti su cui sono abituato a procedere in un certo modo con una macchina diversa ma di fascia alta quindi una macchina che mi lascia correre, si lascia maltrattare, mi lascia fare quello che voglio però in modo diverso rispetto a come sono abituato ecco che riesco a tirare fuori qualcosa di molto carino e nel corso di questo video andremo a vedere alcune delle immagini che sono venute fuori da questa bellissima fotocamera. Parliamo dell'aspetto fotografico perché è più facile da trattare per quanto mi riguarda ma in un prossimo episodio andremo anche a vedere come si comporta sul video. Prima di cominciare però vi invito a seguire il mio canale cliccando il bottone qui sotto perché ragazzi l'iscrizione è gratuita, a voi non costa assolutamente niente ma ci guadagnate parecchio perché non rischiate più di perdervi tutti i preziosi aggiornamenti che butto fuori su strumentazione di questo tipo e non solo. Lasciate anche un like a questo video per ringraziare il team di Panasonic per averci dato la possibilità di testare questa strumentazione. Un piccolo appunto, le fotografie che vedremo oggi sono state tutte scattate con il 1635 f4, una lente certificata da Leica quindi sono sicuro che avrà una bellissima resa ma non perdiamo altro tempo, tuffiamoci all'interno del mio computer e andiamo a vedere che cosa abbiamo tirato fuori. Molto bene ma eccoci qui come sempre all'interno del mio computer. Ora andiamo a fare le nostre solite correzioni, io ho già applicato uno dei miei profili su tutte quante le immagini in maniera tale da avere la nitidezza esattamente dove la voglio io. Andiamo a vedere come si comporta la macchina a ISO 3200 quindi partiamo già altini e per fare questo test, ok le immagini del test sono queste, per fare questo test andiamo a cercare di lavorarle un pochino e andiamo a vedere come si comportano quando vengono messe un pochettino sotto stress. Io vado a fare le solite cose più o meno che faccio sempre su immagini di questo tipo che sono cose che potenzialmente un po' di rumore lo tirano fuori. Ok facciamo una cosa del genere, a questo punto io vado a zoomare, fatemi vedere un prima e un dopo. Ok, ok questa è la nostra situazione. Adesso andiamo a vedere come si comporta la macchina a ISO 3200 e la stiamo vedendo al 100%. Ditemi voi, datemi il vostro feedback, io qui sostanzialmente di rumore non ne vedo. adesso, intanto applico gli stessi parametri a tutte quante le immagini, l'esposizione non è proprio sempre uguale perché comunque ho cambiato i parametri però un minimo di differenza c'è. Attenzione però perché qui siamo a ISO 6400 e come potete vedere nuovamente io di rumore non ne vedo, non ne vedo nelle aree scure e ovviamente non ne vedo nelle aree chiare. Quindi ISO 6400 è praticamente l'immagine è pulita. Andiamo avanti, qui come potete vedere abbiamo un cambio di esposizione quindi adesso lo andiamo a compensare un pochino, tanto più la maltrattiamo meglio è perché se la maltrattiamo vuol dire che dovrebbe buttare fuori i difetti. Allora, ISO 12800, facciamo una bella cosa adesso. Andiamo al 200% perché così riusciamo a renderci conto meglio. Allora, qui io comincio a vedere un pochino di rumore, guardate, torniamo su quella di prima giusto per fare il raffronto. Non c'è una grossa differenza. Sì, c'è un pelino di rumore in più però considerato che siamo a ISO 12800 è veramente poca cosa. Andiamo avanti e io suppongo che ecco qui siamo a ISO 25600 e qui anche se siamo di nuovo un pochino sovraesposti, qui devo dire che si comincia a vedere decisamente un bel po' di rumore nelle aree scure. Le aree chiare invece funzionano ancora molto bene. Vedete che nella parte chiara del cielo di rumore quasi non ce n'è, nelle foglie di rumore quasi non ce n'è, nelle zone scure sta cominciando a mostrare il fianco. Adesso andiamo a vedere l'ultima immagine. Questa è scattata ISO 51200. Qui evidentemente c'è del rumore e probabilmente abbiamo anche sacrificato un pochino di nitidezza però l'immagine è ancora utilizzabile a parer mio. Non è una brutta immagine al punto da dire non la possiamo utilizzare. Adesso andiamo a vedere la prima immagine e poi subito dopo andiamo a vedere la seconda. Vedete che al di là del tempo che ci mette il computer a calcolarsela perché comunque è pesante. Vedete che non c'è tutta sta differenza né in termini di toni né in termini di resa generale. Ovviamente quella, anzi devo dire che questa qui scattata con gli ISO massimi è più centrata. Ovviamente un'immagine scattata con gli ISO più bassi sarà più lavorabile. Questo nessuno lo nega. Però devo dire che per quanto riguarda la resa finale non è niente male nonostante sia stata scattata con degli ISO veramente immondi. Adesso andiamo a maltrattarla ancora di più. Vado a renderla un pochettino autunnale. Andiamo a esaminarla un po' meglio dopo averla maltrattata. Come potete vedere qui abbiamo il prima e il dopo. Ovviamente la parte maltrattata è quella più autunnale delle due e adesso io vado a ciclare attraverso tutte le varie opzioni. Vedete sostanzialmente l'immagine non ha risentito delle modifiche che abbiamo fatto a ISO 3200. Se andiamo a vedere ISO 51200 vedete che è addirittura è meglio dove l'abbiamo post prodotta perché abbiamo eliminato un po' di rumore. Come potete vedere ce n'era di rumore a ISO 51200 ma l'abbiamo praticamente recuperato. Vedete? E se andiamo a vedere la versione ISO 25600 qui di rumore ce n'era seppur di meno e comunque anche qui l'abbiamo recuperato. Quindi queste immagini secondo me sono assolutamente utilizzabili. Adesso fatemi uscire da questa modalità e andiamo avanti mettendo alla prova la nostra fotocamera con qualcos'altro di abbastanza complicato. Andiamo a vedere qui come se la cava. Intanto proviamo un po' di profili perché qui stiamo usando camera standard giustamente. Io voglio vedere come se la cava con qualche altro profilo che magari mi può dare qualcosina in più su un'immagine di questo tipo. e forse quello che mi piace di più è adobe landscape. Vediamo un pochettino come se la cava. Adesso andiamo a fare le solite modifiche che ho già fatto anche prima così abbiamo un po' di uniformità anche su tutte quante le foto. Andiamo a vedere un primo e un dopo. Adesso andiamo di nuovo a strapazzarla perché cerchiamo di tirare un pochino fuori qualche colore un pochettino più autunnale. Se gli diamo questo look un po' dreamy e devo dire si comporta molto bene fin qua. Adesso io vado ad aprire un pochino le ombre e a chiudere un pochettino su quel punto luce. Non troppo perché non voglio esagerare ma questa qui è una prova cioè ci sto giocando praticamente. Voglio vedere fin dove mi posso spingere. E vedete qui stavo scattando a ISO 800. Devo dire di rumore non ce n'è assolutamente. Per quanto riguarda la nitidezza adesso facciamo un piccolo check. Adesso andiamo a vedere l'immagine a 200%. Andiamo a vedere la nitidezza sui bordi. Mi interessa andare a vedere. qui abbiamo uno sfocato che non è neanche male considerato che stavamo scattando a 35 mm f4. Non è malvagio come sfocato per essere una lente da f4. Ok questa non è l'immagine migliore per vedere la nitidezza sui bordi perché ha fuoco soltanto nel mezzo. Però in basso vedete che abbiamo una buona nitidezza che arriva fino ovviamente al centro e arriva anche fino in cima. Abbiamo maltrattato queste immagini. Adesso visto che è la stessa inquadratura io mi copio le impostazioni su quest'altra immagine. È stata scattata a ISO 400 quindi li ho diminuiti e stavamo scattando a un cinquantesimo di secondo con il 16-35 mm e qui stiamo scattando a 35 mm. Quindi questa è l'immagine originale e questa è dopo le nostre modifiche. Vediamo se la possiamo strapazzare un pochino di più. Se si può fare qualcosina del genere. Qui bisogna giocarci un pochino perché è una cosa abbastanza empirica. Non esiste una formula magica ma esiste solamente il nostro gusto e quello che riusciamo a fare. Benissimo. Andiamo un po' a vedere questi bordi. Devo dire da questo lato qui forse c'è qualcosa di fuori fuoco e qualcosa di mosso però dove è a fuoco io vedo un bel dettaglio. Stiamo parlando di un grandangolo. Come sapete i grandangoli... Allora qui abbiamo anche una bella stellina sul sole. Da quel punto di lista niente da dire. Stiamo scattando a f4 quindi avere già una stellina sul punto luce del sole a f4 è una cosa che ho trovato spesso nelle mirrorless piacevole rispetto alla reflex dove si doveva chiudere molto il diaframma e devo dire questa mi sembra che renda piuttosto bene. Devo dire che vedo pochissimi artefatti e vedo pochissimo color fringe e quindi da questo punto di vista la lente sta facendo un lavoro eccezionale perché qui abbiamo un passaggio tra le zone scure e le zone chiare praticamente senza aberrazione cromatica. Almeno io non la vedo. Ditemi che cosa ne pensate in un commento. Io non vedo nessuna aberrazione cromatica qui e devo dire mi sembra anche che la nitidezza sia buona passando per aree che sono a fuoco e aree che non lo sono. Ecco questo magari ci aiuta un po' a capire. Vedete a me sembra che qui la nitidezza ci sia nelle parti a fuoco quindi nonostante una lente molto grandangolare abbastanza spinta devo dire il dettaglio c'è anche nei bordi. Ecco guardiamo qui questo qui era il pavimento andiamo a vedere un prima e un dopo. Come potete vedere ho anche enfatizzato forse un po' troppo qui ho buttato un po' troppa clarity che qui magari non era neanche necessaria però l'immagine è nitida anche in questa zona nonostante stiamo parlando come detto di una lente grandangolare. Andiamo avanti e vediamo questa immagine con questo ceppo illuminato dalla luce del sole. Vediamo quanto riusciamo a recuperarlo. Ecco gli diamo una bella botta ombre più 70 che è tanto è ombre più 70 è tanto. Andiamo a vedere se c'è qualcosa che clipa. Ok gli allarmi non mi danno niente che sta clippando quindi riuscire in una ripresa come questa ad avere questa parte e il sole in camera che non clippano nessuno dei due questo ci sta dicendo che abbiamo a che fare con una macchina dalla gamma dinamica importante e io adoro la gamma dinamica perché aumentare il contrasto si può sempre fare. Vedete se io voglio fare questa roba qui vedete che adesso clippano le luci e clippano le ombre ma se io voglio fare questa roba qui che fra l'altro a mio parere è un po' una schifezza se vogliamo fare questa roba qui siamo sempre in tempo a farlo dopo ma avere nativamente la gamma dinamica per recuperare invece un'immagine è una cosa che dipende in ampia misura dalla macchina che stiamo utilizzando. Vediamo se riusciamo a recuperare anche ecco non riusciamo a recuperare l'azzurro del cielo perché se lo facciamo mi viene fuori questo effetto puntinato per via del fatto che il cielo era sfocato probabilmente però il fatto che ci sia del blu mi dice anche che probabilmente l'avremmo recuperato se non fosse stato per quello. Non voglio insistere perché se l'effetto non è gradevole non è proprio il caso di insistere. Oltretutto guardate qui la stiamo guardando a 200% ok adesso la rimetto a 100% perché ok 100% guardate questo è il dettaglio secondo me è un dettaglio di tutto rispetto molto bello io avevo messo a fuoco qua quindi ci sta che questa zona sia fuori fuoco però quello che è a fuoco è bello affilato e stavamo scattando sempre a f4 quindi è anche normale che sia sfocato dietro però abbiamo ancora una bella stellina sul sole. Andiamo avanti prossima immagine vediamo se qui riusciamo a recuperare un po di cielo e secondo me qualcosa qua si recupera. Allora facciamo una cosa di questo tipo allora io adesso magari esagero poi dopo lo riportiamo indietro intanto vi voglio rimettere landscape che secondo me rendeva meglio andiamo a vedere se siamo riusciti a... eh allora qui è una scelta dura eh che bisogna fare una bisogna mediare tra le zone chiare e le zone scure senza esagerare io qui ho decisamente esagerato infatti si vede le troppo proviamo una cosa di questo tipo vado a schiarire un pochettino di più in maniera tale che poi forse riesco a recuperare ok togliamo gli alert allora vi rendete conto che è una situazione parecchio contrastata perché abbiamo il sole che tramonta ma abbiamo ancora una situazione dove ci sono luci e ombre molto intense un recupero di questo tipo è notevole ragazzi è veramente notevole cioè qui abbiamo delle aree che lo vedete anche dall'istogramma quest'area è praticamente nera la recupero la recupero perfettamente andiamo a vedere il dettaglio di quest'area non è bellissimo sfavillante come potrebbe essere nelle zone che erano in luce però è perfettamente utilizzabile guardate che roba quindi devo dire dal punto di vista della lavorazione del file qui abbiamo a che fare con una macchina che si lascia maltrattare parecchio e questa cosa ci piace tanto ora sapete che io sono un giocherellone mi piace sperimentare per cui adesso andiamo a vedere qualcosa di ardito questo è un hdr quindi abbiamo fatto un bracketing a 5 step con la macchina a mano libera quindi adesso gli dirò di allineare automaticamente le immagini perché non mi fido così tanto della mia mano nonostante questa camera abbia un sistema di stabilizzazione che potrebbe anche avermi aiutato ma io preferisco non fidarmi fino a questo punto e quindi gli dico di allinearmele lui che non si sa mai e a questo punto gli dico di unirmele pure lascio il deghosting off perché tanto le parti che ne avrebbero bisogno sono sfocate quindi secondo me non si capirà niente da quelle parti lì se anche c'è del ghosting fa niente va bene così andiamo un po a vedere che cosa mi restituisce la macchina vi faccio vedere questo perché questa secondo me è la cosa che bisogna fare per avere veramente il massimo dal nostro dispositivo nel momento in cui siamo fuori con una scena come questa molto contrastata secondo me fare uno scatto hdr è veramente il massimo che possiamo fare in questo caso come potete vedere l'abbiamo fatto a mano libera e andiamo un po a vedere il dettaglio le zone a fuoco mi sembrano a fuoco giuste quindi ha finito di processare sì quindi questo qui è veramente il risultato finale tenete conto che appunto è uno scatto un po sperimentale nel senso che avrei dovuto stare su tre piede invece l'ho fatto a mano libera per quanto riguarda la resa dei colori e guardate che qui non ho ancora toccato niente quindi questi sono i colori della macchina fatemi vedere un attimo questo è camera standard fatemi vedere landscape ok è ancora più più carico questi sono i colori della macchina da sola cioè la macchina da sola tira fuori questa cosa qui adesso andiamo a vedere se la pastrugniamo anche oltretutto tenete conto che la si può pastrugnare parecchio è cioè vedete con che violenza posso tirare i cursori e lei me lo lascia fare quindi ovviamente sarebbe una schifezza se io lo facessi con quella violenza però se io lo faccio di poco vedete che riesco a tirare fuori esattamente quello che voglio riesco a tirare fuori un mood più autunnale o meno autunnale in questo caso io potrei anche giocarmela sul contrasto quindi potrei anche lasciare un po di verde dietro per giocarmela sul contrasto devo dire non so ditemi voi cosa ne pensate secondo me a livello cromatico e di resa è una macchina della madonna questa cioè uno scatto così a mano libera con con il controsole sono veramente dei bei colori considerato che non l'ho pastrugnata più di tanto cioè questa sarebbe pronta così non c'è granché da fare è un'immagine che è bella così è già bella quasi in macchina bene amici eccoci qui nuovamente in studio per le considerazioni finali che dire come avete potuto vedere la macchina è bella al di là del fatto del corpo macchina in sé andatevi a recuperare i video che ho già pubblicato perché ho fatto un unboxing e abbiamo già parlato di questa macchina però andando a vedere proprio nel concreto le immagini che vengono fuori io sono molto contento della resa sapevo che sarei stato contento perché comunque quando ti mandano una macchina come questa questa è una macchina di fascia alta cioè questa se la gioca alla pari se non forse anche qualcosina di più con le macchine più belle che ho in mio possesso quindi sapevo che era una bella macchina sapevo che mi avrebbe dato soddisfazione sono anche consapevole che è una macchina pensata più per fare video che per fare foto e a maggior ragione vi dico una macchina che è pensata per il videomaker che tira fuori delle foto così con questa definizione con questa nitidezza con questi colori è tanta roba il fatto dei colori sono anche convinto che sia a causa del fatto che è pensata per videomaker perché uno dei pallini di noi videomaker è la gamma dinamica quindi ci piace avere tutta quanta la scena sotto controllo senza aree di perdita di dettaglio una macchina come questa come avete potuto vedere cattura un bel dettaglio con tantissime informazioni e ci permette un recupero molto invasivo molto prepotente quindi sono stato in grado di recuperare zone di alte luci e zone di ombra che normalmente faccio fatica a recuperare quindi da questo punto di vista devo dire veramente dieci elode per quanto riguarda la costruzione vi faccio anche un upgrade su quanto detto nei video precedenti la macchina è molto piacevole da portare in giro perché devo dire che ha proprio il peso giusto non è leggera ma a me piace come peso mi piace come ingombro è proprio bella da tenere in mano l'unica cosa che riscontro è che per i miei gusti per come sono abituato io questa parte della scocca è molto spigolosa quindi da quel punto di vista può risultare anche a tratti fastidiosa sulla mano anche se devo dire che comunque aiuta perché incassando il pollice qui in questo modo ci dà un grip con cui facciamo meno fatica a direzionarla e troviamo subito la direzione giusta mentre magari su altri modelli a cui sono abituato essendo tondi faccio più fatica a capire a feeling qual è la direzione giusta perché essendo tonda la prendo in modi diversi magari e quindi non ho quella direzionalità che invece riscontro avere su questa macchina quindi è sia un pro sia un contro sull'utilizzo è un pro perché mi dà immediatamente la direzione che voglio sulla lunga distanza dopo una giornata di utilizzo può risultare un po spigolosa però insomma tutte le macchine hanno i pro e i contro e quindi io questi ve li segnalo per quanto riguarda l'ottica parleremo di nuovo in un altro video spero di avere il tempo di fare tutto quanto perché ho a disposizione questa strumentazione per un periodo di tempo limitato devo dire questa lente mi sta piacendo molto mi piace molto la costruzione il fatto che non sia di plastica è bella robusta devo dire mi sta piacendo molto perché comunque se la gioca con il mio 1635 però questo è grande non voglio dire la metà perché non è vero però è più piccolo è più più leggero e più maneggevole attenzione più leggero nonostante la costruzione sia eccezionale quindi è veramente una bella lente diametro 77 quindi perfetto è veramente studiata bene è una bella soluzione questa è una soluzione di questo tipo vedete non è particolarmente grande sta sia nello zaino sia nella borsetta sia in mano sia al collo sta dappertutto che è una meraviglia a questo punto vi lascio come sempre spazio nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di questa macchina se state pensando di acquistarne una se ce l'avete già se avete qualcos'altro ma questo mio video vi ha fatto venire la scimmia come mi ha già detto qualcuno nei commenti ricordatevi anche di iscrivervi al canale perché spesso io rispondo con dei contenuti brevi verticali alle domande che mi fate quindi se vi iscrivete subito non rischiate di perdervi le risposte amici è stato come sempre un piacere passare un po del mio tempo con voi io e panasonic vi diamo appuntamento al prossimo video